Uedì, Carola nel camerino di un negozio, potrebbe l'abito per la scelta di Federico. A Uomini e Donne manca sempre meno alla registrazione della puntata in cui il tronista Federico Nicotera si congederà dalla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi assieme alla persona con la quale intende costruire una storia d'amore fuori dallo studio tv di Canale 5. Intanto, proprio in queste ultime ore, Carola si è mostrata sui social all'interno del camerino di un negozio. Accendendo la curiosità dei fan, alcuni quali ora ipotizzano che la ragazza sia alla ricerca dell'abito proprio in vista della scelta di Federico. Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e Donne prosegue su Canale 5 e al centro dell'attenzione delle prossime registrazioni ci saranno le scelte finali di Federico Nicotera e Lavinia Mauro. Entrambi i tronisti, infatti, saranno chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire la loro storia d'amore lontani dai riflettori mediatici. Occhi puntati in primi su Federico che, rispetto alla sua collega, ha portato in avanti un percorso maggiormente convincente e appassionante per il pubblico della trasmissione di Canale 5. Due le pretendenti che sono giunte al rush finale, Alice e Carola, le quali si giocheranno il tutto per tutto in vista del gran finale. Le prossime registrazioni di Uomini e Donne sono previste il 3 e 4 febbraio, potrebbero essere quelle decisive per Federico e... In queste ore, ad alimentare i sospetti ci ha pensato indirettamente anche Carola. La giovane pretendente ha pubblicato uno scatto sul proprio profilo Instagram in cui si mostra all'interno del camerino di un negozio accompagnata da un'amica. Nella foto Carola indossa delle scarpe eleganti, quasi come se stesse facendo delle prove per un eventuale abito da scegliere, qualcuno non esclude che la ragazza possa essere proprio alla ricerca dell'outfit da indossare in puntata durante la registrazione della scelta finale. In attesa di scoprire se questa fatidica scelta avverrà proprio nel corso di una delle prossime registrazioni di Uomini e Donne in programma questa settimana. I fan social della trasmissione continuano a fare il tifo per Carola. In tanti, infatti, si dicono convinti del fatto che il tronista sia maggiormente preso interessato dalla corteggiatrice bionda, rispetto all'altra pretendente Alice. Insomma, Carola sembrerebbe essere la favorita per la scelta del Federico, almeno secondo gli spettatori social della trasmissione di Canale 5. Metafora, iperbole, le obtin prin alchimie, cand adun cuvinte din Domn ma pun le pierd la 1000 de grade Celsius, sa ramana spus si sa se stie, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea sa fie unul.